Scout è un cane buonissimo, bravo, la zampa? Dai la zampa Scout, bravo, è buonissimo, un incrocio Golden Retriever di meno di un anno, 11 mesi secondo la dottoressa. Questo cane meraviglioso, vagava per il centro di Ginosa prima di Natale, tutto solo, e non siamo riusciti a scoprire di chi fosse, e adesso di nuovo l'abbiamo visto in mezzo alla strada, quindi o ha un padrone che lo lascia andare in giro, oppure semplicemente questo cane ha vissuto di carità finora nei vari quartieri, e non ha assolutamente un padrone, è stato abbandonato da un certo punto in poi. Noi abbiamo fatto i volantini, ma nessuno ci ha chiamato, quindi Scout è al momento cane di nessuno. Scout è vero che tu non sei di nessuno e che cerchi ancora una famiglia definitiva? Che c'è Diego? Vieni, vieni Scout, vieni, bellissimo, vedete quanto è bello. Guardate che occhi, allora lui è un cane, non solo è bello, buono, ma anche educato. Adesso che ce l'abbiamo qui in canile, di giorno è nel boxe qui, e di sera quando andiamo via lo lasciamo nello studio, e lui è bravissimo e non distrugge niente, non sporca, non fa un goccio di pipì, nient'altro, e aspetta che noi lo prendiamo con il guinzaglio e lo portiamo fuori. Quindi è un cane d'oro, veramente beato chi l'adotterà questa meraviglia. Vediamo quanto è grande Scout, ecco, proprio Taglia Golden Retriever, un buon incrocio golden, buonissimo, veramente adatto a tutti questo cane. Speriamo non debba ritornare in mezzo alla strada e nemmeno rimanere oltre qui in canile, perché poi quando noi andiamo via le tre, lui resta solo, povero piccolo. No, adesso ti mettiamo il follarino, e ti troviamo una bella famiglia. Ciao Scout!